Il membro del Consiglio esecutivo della Banca Centrale Europea, Lorenzo Binismaghi, sostiene che la BCE non dovrebbe astenersi dall'usare la facilitazione quantitativa se la deflazione diventa un pericolo nella zona euro. La crescita dell'economia francese viene corretta a ribasso nel terzo trimestre fino allo 0,3%. Gli italiani devono rinunciare all'abitudine di usare contante dopo che il governo Monti ha deciso di ridurre la soglia massima di questi pagamenti da 2.500 euro a 1.000 per limitare l'evasione fiscale. Collegamento internet da Auckland, Nuova Zelanda, Maurizio Piglia, direttore degli investimenti della Banca Savings and Investments. Buonanotte a te, Maurizio. Buongiorno a voi. Non capisco la discussione quasi religiosa sul quantitative easing. È una mossa appropriata se le condizioni economiche lo giustificano. In particolare in paesi che devono affrontare una trappola della liquidità che potrebbe condurre alla deflazione. Lo dice Lorenzo Binismaghi in un'intervista al Financial Times. Binismaghi, il membro italiano della Banca Centrale Europea, lascerà il suo posto alla BCE alla fine del mese. Dunque la BCE parla di QE. Beh, appunto, essendo in uscita può finalmente affrancarsi dalla disciplina germanica della Banca Centrale Europea e dire anche quel che non si può dire dall'interno. che alla fine, di fronte a una situazione deflazionaria, si può tuonare di principio come fanno i tedeschi, ma alla fine, come ha fatto in questa settimana Draghi, si rilasciano finanziamenti limitati fino a tre anni che è una forma surrettizia di quantitative easing. Che ci sia chi ne dice ma è un prestito quindi come tale il saldo monetario è zero, è un prestito contro carta che fa ridere solo il pensiero che sia carta bancabile perché dicono addirittura che le banche che potranno emettere loro obbligazioni a fronte o garantite da nient'altro che la firma del loro amministratore delegato e andare a scontarle in Banca Centrale Europea. Quelli che dicono che il saldo monetario è zero perché è un debito, mi fanno un po' morire da ridere insomma. Il cosiddetto quantitative easing molto rapidamente è un modo che usano le banche centrali, al momento lo stanno facendo i britannici e i giapponesi che pare l'abbiano addirittura inventato, l'hanno fatto a man bassa anche gli americani con la Federal Reserve una misura per un modo di politica monetaria per inserire liquidità nel sistema comprando le obbligazioni statali dalle banche. Binismaghi fra le altre cose appunto a fine anno lascia la BCE, ricorderete c'è stato un po' di polverone su questo perché Draghi diventava presidente e i francesi con l'uscita di Jean-Claude Trichet non avevano più nessuno alla Banca Centrale ed hanno spinto perché l'altro membro italiano, Binismaghi, lasciasse la BCE a favore di un membro francese. Lui lascerà e prenderà una posizione all'Università di Harvard per gli affari internazionali e diventerà anche presidente della SNAM Trasporto sempre dal primo di gennaio. Invece di ulteriore acquisto di obbligazioni dunque la Banca Centrale Europea fino ad ora ha optato per oliare il sistema bancario con illimitata illiquidità fino a tre anni sperando che le istituzioni finanziarie prestino denaro alle aziende e alle famiglie. La BCE ha prestato un record di 489 miliardi di euro per tre anni il 21 di dicembre per evitare quello che viene definito un credit crunch relativo conseguente alla crisi del debito sovrano. Non è stata una buona idea, Molizio? È la classica strada obbligata che alla fine ha tutta una serie di unintended consequences, cioè di conseguenze non volute e non controllabili dalla Banca Centrale Europea. Le banche siccome si vedono diminuire il valore dell'attivo perché gli si disgrega il valore delle varie obbligazioni sovrane che hanno in mano, a volte si sono viste costrette, siccome queste obbligazioni non rappresentavano più carta che si poteva rapidamente trasferire in liquidità perché diventavano addirittura sospette di diverso valore, diversa valutazione, si sono trovate con il problema di non avere alcunché da dare in cambio di liquidità. La Banca Centrale ha fatto il suo dovere, nel senso ha fatto quello che poteva, adesso sta dando liquidità illimitata, ma non ha nessun modo di controllare che questa liquidità venga trasferita al sistema produttivo, anzi dirò di più, secondo me non verrà trasferita al sistema produttivo perché la Banca Centrale ha creato indirettamente un azzardo morale micidiale, cioè ha creato il carry trade perfetto. Il carry trade perfetto è faccio, emetto della carta, oppure prendo una carta che ho in casa e che nessuno mi scontava, la rifilo alla Banca Centrale, prendo del denaro all'1% e poi non faccio nient'altro che riacquistare dell'altra carta, la quale mi rende nominalmente il 6%, la porto a scadenza e non presto niente a nessuno, non solo, con gli utili che metto a libro, invece di metterli a riserva e rimpolpare il capitale, continuo a pagarmi bonus assolutamente immorali e non faccio nient'altro che rimettere a posto con una parte dei soldi, magari anche le riserve. L'eccesso di riserva delle banche è proprio quello che è il risultato finale di quantitative easing, tra l'altro con una scala così ampia come quella concessa dalla Banca Centrale Europea che presta denaro all'1%. Questo denaro non va nel sistema produttivo, questo denaro va a rimpolpare e a ricontinuare gli schemi di ponzi che le banche hanno trovato molto più lucrosi e redditizi che non la loro funzione istituzionale e quindi non si fa nient'altro che alimentare un gigantesco carry trade, fra l'altro di cui non devono nemmeno preoccuparsi del rischio di cambio. Maurizio, ci sono dei limiti a tutta questa situazione che abbiamo descritto, nel senso le banche fanno bene poi a comprarle queste obbligazioni dei paesi che nessuno vuole oppure no, perché alla resa dei conti qualcuno le deve comprare, le banche potrebbero contribuire a far abbassare il costo dei finanziamenti, allo stesso tempo si finanziano a costo basso per poi investire in qualcosa che ha dei rendimenti più alti. Luciano, la grande illusione, la grande stupidaggine, la grande fregatura è che gran parte di questi debiti che vengono comprati, rifinanziati, sono irrestituibili, quindi come tale in teoria o meglio in pratica quel debito non dovrebbe valere niente. In realtà quel debito vale fino che tutti credono che in qualche modo sia restituibile. Quel che è venuto a mancare di recente è oscillata e vacillata la fiducia che quel debito sia restituibile e nel caso di alcuni paesi come ad esempio la situazione greca è venuto palesemente alla luce che è irrestituibile perché lì addirittura mi pare che sempre nella settimana in corso abbiano addirittura sospeso tutti i pagamenti, lo Stato greco ha dichiarato che smette di pagare i fornitori, si cominciano a leggere di problemi alimentari nelle famiglie più povere, alla fine tutto questo debito è un'illusione, un'enorme parte è irrestituibile, incluso anche il debito italiano, una parte è irrestituibile, probabilmente non un'enorme parte per fortuna ma almeno un terzo è irrestituibile di tutta la massa e lo stock di debito che esiste. Quindi continuare ad alimentare il fatto che questo debito debba essere rifinanziato, ricomprato eccetera, continuiamo a illuderci che ci sia ancora dell'effettiva capacità di restituzione, ma se alla fine ci si avvita in recessione e i prodotti interni lordi diminuiscono invece di salire, con cosa non restituisci il debito? Ed era proprio quello che volevo tirar fuori adesso con la scusa dell'economia francese, la scusa, questa è la notizia di oggi, l'economia francese che cresce dello 0,3% nel terzo trimestre lo dice l'ufficio di statistica della Francia, l'INSEE, è una revisione a ribasso delle stime precedenti secondo le quali invece l'economia cresceva dello 0,4%, l'economia francese aveva segnato una contrazione dello 0,1% nel secondo trimestre, dunque quindi almeno ufficialmente evita la recessione data meno a livello tecnico dal due trimestri consecutivi con il segno negativo, cosa che invece come abbiamo visto nei giorni scorsi e nei video precedenti l'Italia non potrebbe fare, perché l'Italia ha un segno negativo nel terzo trimestre e prevede un segno negativo ancora più profondo nel quarto trimestre, dunque possiamo dire che con tutta certezza l'Italia è già in questo momento in recessione, che come ben sappiamo iniziano le manovre che potrebbero ugualmente erodere il prodotto interno lordo e dunque causare una recessione più forte nei prossimi mesi, Confindustria stima un meno 1,6% per i primi 6 mesi del 2012, come dicevamo prima, con cosa lo paghi il debito se la ricchezza non la crei, anzi la distruggi? Ecco, quindi in questo periodo che succede? Che teoricamente devi emettere altro debito per finanziare ulteriore spesa? Questo è il gioco di sempre, ma anche le mosse di cui abbiamo parlato della banca centrale sono a favore del passaggio di questo periodo oppure no? Questo quantitete di visi sotto al tavolo, Maurizio? La banca centrale ti mette un cerotto, ma se non fai in qualche modo smettere di sanguinare la ferita, prima o poi anche il cerotto si impregna di sangue e si butta. Il discorso è semplice, le manovre governative fatte fino adesso non hanno inciso sulla spesa, non hanno inciso sulla spesa strutturale, hanno cercato di alzare le tasse e quindi di continuare a finanziare questo assoluto falò che brucia la ricchezza degli italiani. Se nessuno vuole mettere le mani sulla spesa o se nessuno mette le mani sulla spesa, anche il cerotto della banca centrale durerà quello che dura. Spesa è intesa come? Spesa per l'Italia è intesa come corruzione, sprechi, privilegio. Mettendo le mani su quello si avrebbe quantomeno una reazione anche dall'opinione pubblica. Hai bisogno di una ricevuta? No, perché se non la vuoi posso fare uno sconto, insomma ci mettiamo d'accordo. Fornitori e clienti sono complici nell'evasione fiscale in Italia e i fornitori scaricano la tassa sul cliente che finisce per preferire di pagare meno senza preoccuparsi che la transazione non sia correttamente riportata. Il Presidente del Consiglio Mario Monti vuole che i proprietari di case che ricevono gli affitti, gli idraulici, gli elettricisti, le piccole aziende smettano di essere pagati in contanti perché è un modo per evadere le tasse. Il governo il 4 dicembre ha ridotto il massimo consentito per le transazioni in contanti a 1.000 euro da 2.500 euro. L'Italia perde oltre 120 miliardi di euro all'anno in tasse non pagate ogni anno secondo Equitalia l'esattore nazionale e spende oltre 10 miliardi di euro all'anno in costi amministrativi per esaminare le transazioni in contanti, questo secondo l'ABI, l'Associazione dei Bancari. Questa è una buona idea? è un'idea stupida in questo senso, cura un sintomo e non va a curare la causa, ti faccio un esempio banale, in questo paese dove sono io, in Nuova Zelanda, le spese, se hai un'azienda sono deducibili e nessuno si sogna di dedurre il cane, anche perché l'auto per esempio, se hai un'auto che è finanziata dall'azienda è deducibile come spesa dall'azienda ma è tassabile su di te come reddito e tranquillamente ha la stessa identica aliquota di reddito dello stipendio normale, quindi alla fine non esiste evasione, dice sì ho l'auto aziendale, l'intesto all'azienda così scarico e vado, no perché l'azienda scarica ma tu la paghi esattamente come se fosse una retribuzione, quindi i conti per il governo tornano, ma soprattutto il governo con il sistema del rendere deducibile del tutto, rende interesse di tutti gli attori del cerchio di emettere le fatture, non di nasconderle, allora il governo italiano che ha reso indeducibile qualsiasi cosa, ha tolto qualsiasi interesse agli attori economici a emettere la fattura e adesso è costretto a misure da stato di polizia dicendo basta transazioni in contanti, perché? Perché per forza che tutti transano in contanti, perché hanno tolto qualsiasi interesse all'emissione della fattura, perché? Perché tanto è un documento che loro stessi non rispettano, tu prova ad allegare le fatture delle tue spese dicendo ma io queste le ho spesi davvero e posso documentarvi che li ho spesi per lavorare, no non ci interessa perché tanto comunque non gli facciamo deducibili. Il governo quando è stupido poi si avvita nella sua stupidità. Sai che ha detto Monti? Ha detto quello che abbiamo bisogno è una rivoluzione. Esiste un detto che è beware what you wish, fai molta attenzione a quello che chiedi, potrebbe avverarsi. Abbiamo bisogno di una rivoluzione nel modo di pensare degli italiani. Questo ha detto in questo senso la rivoluzione. E per far questo ci vuole tempo, ma questa cosa del contante, il limite al contante, questo potrebbe essere un primo passo. Ha torto? Vuoi dire che gli italiani hanno bisogno di cambiare il modo in cui pensano? In parte ce l'hanno sempre avuto, nel senso che se fai conto che per i primi anni ruggenti dell'era Berlusconi l'ammirazione per il soggetto era che siccome si era fatto da solo, senza contare le regalie del suo amico Craxi, piuttosto che tutta una serie di eclatanti evasioni fiscali e tutto, alla fine c'era comunque i suoi sostenitori che dicevano se va del fisco e poi lo fanno tutti. Lo fanno tutti un accidente. Il fatto che in Italia se cerchi di far rispettare la legalità vieni accusato di giustizialismo è abbastanza un'anomalia tutta italiana. Da questo punto di vista sono abbastanza d'accordo con lui. Gli italiani sono gli abitanti della zona Euro meno indebitati e anche fra i più grandi risparmiatori. secondo i dati dell'Ufficio di Statistica europeo, l'Eurostat. La loro frugalità però potrebbe essere almeno in parte legata alla sfiducia di pagare con qualsiasi cosa che non sia appunto i contanti. Gli italiani che hanno una carta di credito la usano in media solamente 26 volte per anno o 5 volte meno di quanto una carta di credito viene usata nel Regno Unito secondo i calcoli della Banca d'Italia. Intendo dire, Maurizio, in effetti questa cosa della carta di credito non ti è abbastanza chiara? Quanto la usi tu? Tu vai a giro con contanti nel portafoglio a Oakland quando esci? Oppure paghi praticamente tutto con la carta di credito? No, nel senso che non uso nemmeno la carta di credito, uso questa cosa qui che è la moneta elettronica si chiama EFTPOS ci sono settimane intere in cui se va bene ho 5 dollari in contanti in tasca per il resto si usa la moneta elettronica ma si usa per comodità, mica perché bisogna scoprire l'evasione se uno vuole pagare in contanti paga in contanti ma la fattura gliela fanno lo stesso anche se paga in contanti cioè la fattura gliela fanno cioè il discorso è se vuoi andare dal meccanico e pagarlo in contanti il meccanico è felice che lo paghi in contanti ma non ti chiede nemmeno vuole la fattura non esiste nemmeno proprio l'ipotesi che non vuoi la fattura ti dà la tua fattura e tu lo paghi proseguiamo con alcune domande ci scrive Attilio dice avrei una domanda perché le banche dovrebbero chiedere a prestito soldi ad altre banche quando possono avere tutta la liquidità che vogliono dalla BCE a bassissimo costo grazie a Vlugans Attilio grazie mille Attilio per la domanda solamente per rendere la compressione più facile a tutti il cosiddetto credit crunch la spremitura del credito quando il credito si rallenta la scintilla iniziale è che le banche che si prestano i soldi di notte non perché fanno lì nascosto ma perché si apre così overnight lending smettono di prestarsi i soldi questo giro di soldi fra le grandi finisce dunque la mossa della Banca Centrale Europea è anche finalizzata a impedire che questa trasmissione di contanti per le banche si interrompa Maurizio la domanda perché devono prendere ma è semplicemente perché se tutti la prendessero a costo bassissimo o anche a costo altissimo o comunque a costo dalla Banca Centrale l'espansione ci sarebbe un'espansione della massa monetaria e quindi si creerebbe si creerebbe inflazione in realtà i prestiti interbancari servono semplicemente a fare in modo che chi ha un eccesso di cassa per quel giorno lo presti a chi ha un deficit di cassa per quel giorno e tutta la massa monetaria circolante rimanga la stessa perché chi ha degli eccessi li presta ovviamente a un tasso di interesse a chi ha dei deficit il problema che si è verificato di recente è che nessuno presta più niente mica perché non hanno più non c'è più chi ha degli eccessi e perché chi ha degli eccessi di cassa non si fida della solidità dell'attivo di bilancio di chi ha dei deficit di cassa e viceversa perché in realtà siccome le banche sanno benissimo che gran parte degli attivi sono fatti di carta che è meglio che non valutino quello che sia vero e reale perché altrimenti devono ricostituire il capitale non una ma cinque volte perché sono andate a leve spaventose e allora comincia tutto comincia a diventare più vischioso dice ma io non gli presto non mi fido e se questo non mi presta alla fine chi si trova con dei deficit di cassa ha un problema e questo problema può essere risolto temporaneamente dalla Banca Centrale Europea ma finché il debito il cattivo debito non viene eliminato dai libri e non si capisce che cosa si sta leggendo davvero nel libro dell'attivo l'uno dell'altro è chiaro che la situazione rimane questa sarebbe più sano che funzionasse regolarmente il mercato del credito che non andassero a prenderli dalla Banca Centrale chiedo a Luciano a uno dei suoi ospiti di chiarire come non chiediamo a Maurizio i circa 500 miliardi 4,89 di euro erogati dalla BCE al sistema bancario siano stati generati dalla BCE stessa sia a mezzo stampa di carta moneta fisica oppure attingendo a fondi esistenti o agendo sulle regolamentazioni dei depositi delle banche o pigiando un bottone al computer poi Giorgio scrive ancora dice mi scuso integro questo mio quesito precedente relativo alle modalità di emissione di liquidità della parte della Banca Centrale Europea chiedo di chiarire se la emissione di questa liquidità di fatto incrementa la massa monetaria e di conseguenza si realizza quanto formalmente aburrito dalla Germania grazie mille Giorgio allora la modalità molto probabilmente è la creazione di cosiddetti repurchase agreement cioè si compara della carta fornendo liquidità a queste banche repurchase agreement che vanno sì nella nella massa monetaria ma vanno nella massa monetaria M3 cioè si crea in teoria ti dice chi segue chi fa la dottrina ortodossa ti dice che essendo un debito essendo comunque un debito perché prendo dei titoli a garanzia ti do dei soldi ma è scritto che quei soldi me li restituisci nel bilancio tu iscrivi due partite quindi il saldo alla fine il saldo monetario è zero perché tu hai un'entrata tramite appunto un deposito alla banca centrale ma hai questa entrata ti causa a termine del deposito ti causa una liability in realtà il problema è che nell'ultima emissione di denaro per esempio illimitato a tre anni il problema è che la qualità della carta non è più limitata a carta che effettivamente bisogna tenere come titoli di debito statale eccetera è stato detto nell'ultima regola che le banche possono autorizzate anche a emettere obbligazioni proprie e a scontarle alla banca centrale europea cioè improvvisamente alle banche viene data la possibilità di con un tratto di penna del consiglio di amministrazione di creare dei titoli che siano scontabili garantiti dallo Stato garantiti dallo Stato quindi garantiti dalle tasse il tutto è poco simpatico come deroga però i tedeschi per ora non si sono ribellati il fatto poi come questo denaro venga creato ci interessa o meno se pigiando su un bottone o stampato in effetti fisicamente per lo più per lo più diventa creazione di depositi cioè pisando su un bottone ci interessa soltanto sul fatto che se dovesse essere stampato fisicamente ci sarebbe un gap di tempo e ci sarebbe un costo effettivo di stampa cosa che non c'è vengono creati dei depositi per la banca centrale quindi si pigia un bottone insistiamo ancora sulla massa monetaria con la domanda di Sandro che dice la massa monetaria europea M1 non dovrebbe salire o scendere proporzionalmente al PIL se la M1 non sale in maniera proporzionale al prodotto interno lordo è ovvio che prima o poi arriva il collasso del sistema monetario perché la moneta circolante è data solo dalla M3 che sale esponenzialmente composta quasi esclusivamente dalla moneta creata dai prestiti debiti dove posso trovare studi in materia grazie Sandro beh io direi che su internet si trovano abbondanti informazioni su questo anche sui siti delle banche centrali prova dunque M1 M2 M3 ci da Sandro in ogni caso anche modo di specificare bene che cosa sono io credo già facendo quello riusciamo a dare una qualche risposta a Sandro perché insomma la sua domanda appare leggermente un po' confusa diciamo diciamo che M1 è la somma delle banconote in circolazione e dei depositi overnight delle banche cioè il contante in pratica M2 è la somma del contante cioè di M1 più i depositi che maturano fino a due anni i depositi nelle banche e i depositi che siano utilizzabili con un preavviso al massimo di tre mesi anche i conti di risparmio rientrano in M2 Moritz anche che cosa scusa i risparmio conti di risparmio risparmio sì la definizione la definizione della della banca centrale europea è che M2 è proprio la somma della moneta cioè di M1 i depositi quindi i conti correnti o di risparmio con una maturità fino a due anni quelli bloccati oltre i due anni non entrano in M2 e depositi appunto richiamabili che possono essere a maturità indefinita ma richiamabili con una richiesta al massimo fino a tre mesi questa è M2 M3 invece appunto la somma di M2 più i pronti termini cioè i repo i fondi del mercato monetario cioè il mercato monetario e i titoli di debito fino a due anni questa è M3 tu chiedi se M1 cioè il denaro contante e i depositi overnight dovrebbe crescere o meno se soltanto legato alla crescita del PIL non è così perché in realtà la moneta non è legata a niente non è legata alla crescita o meno del PIL è una quantità che alla fine è arbitraria che può essere decisa dallo Stato e di solito è decisa dallo Stato attraverso l'intermediazione delle banche centrali il punto è che la quantità di moneta se fosse limitata da una qualsiasi convenzione ti eliminerebbe effettivamente l'inflazione perché non potrebbe crescere se non crescesse il PIL così come non poteva crescere quando esisteva il collegamento all'oro perché la moneta non poteva crescere più della quantità di oro disponibile magari la moneta fosse legata a una quantità precisa e misurabile in realtà non lo è restringimenti o allargamenti della base monetaria si possono avere con i livelli dei tassi di interesse Maurizio no il tasso di interesse è solo ed esclusivamente il costo della moneta il restringimento all'allargamento della base monetaria deve essere proprio volontà la quantità di moneta può essere fatta salire perché M1 sta relativamente stabile perché è più comodo più facile nell'epoca nell'epoca dei trasferimenti in un'epoca come questa dove l'elettronica è imperante è più facile creare depositi presso la banca centrale a fronte di operazioni di pronti termine per espandere quindi M3 che non mettersi a stampare fisicamente moneta ma ciò non vuol dire che la quantità di moneta non salga M3 è sicuramente più significativo che non M1 M1 è proprio il contante vero e i depositi overnight Maurizio Piglia da Auckland Nuova Zelanda direttore dell'investimento della banca savings and investment non abbiamo neanche nominato il Natale questo è l'ultimo video prima di Natale buon Natale auguri tanti auguri tu starai al bordo della piscina con la barba finta e mutandoni e ti fai il bagno così mi faccio al bordo della piscina col barbecue ci butto un paio di ragoste sopra comunque io speriamo che l'Italia se la cava ecco arrivederci arrivederci